Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video, questo sarà un video un po' così chiacchierata improvvisata però secondo me ci sono veramente delle cose che vale la pena seguire e riportare perché normalmente nel mainstream passano solo messaggini per bambini di due anni però secondo me stanno accadendo delle cose veramente gravi che il più gran numero di persone dovrebbero cercare di capire perché altrimenti secondo me si metterà male un po' per tutti e non voglio fare allarmismo ingiustificato. Mi raccomando come sempre se volete supportare questo video lasciatemi un commento con le parole magiche e la parola magica di questo video è chiodo e poi ne troverete un'altra durante il video, mi raccomando guardatelo tutto perché secondo me verranno trattati alcuni punti che magari non hanno un filo logico così deciso però se veramente questo trend dovesse proseguire le cose potrebbero diventare veramente dure per diverse persone. Allora inizio subito con la vicenda di questi giorni, questo canale YouTube Radio Radio che appunto ho seguito così qualche video però appunto ne uscivano veramente tanti e quindi non non li ho seguiti proprio tutti però quello che mi ha colpito di questa vicenda è che un canale comunque non amatoriale fatto con un certo livello tra l'altro loro affermano di essere giornalisti quindi testata giornalistica non canale improvvisato e comunque da un giorno all'altro sono stati censurati da YouTube con scuse di molestie o altre cose abbastanza strane. Personalmente anche a me è successo di avere un video rimosso da YouTube che però poi mi è stato riabilitato dopo una settimana, tra l'altro questo mio video non aveva nulla a che fare con oggetti dannosi o pericolosi però di fatto questa intelligenza artificiale ogni tanto fa sparire dei video anche a distanza di mesi quindi non è detto che si veda subito l'effetto di questo comportamento. Comunque in questo caso quello ad essere sparito è stato un intero canale e comunque un canale fatto in un certo modo persone che parlano in dizione quindi un canale comunque di un certo tipo magari uno può non essere d'accordo con quel tipo di pensiero diciamo dell'area sovranista nazionalista o altre cose però il fatto che dei canali vengano comunque spenti e non sono canali comunque fatti male e secondo me comunque una perdita per tutti nella diversità e nella libertà di espressione che le persone possono avere. Comunque a quanto pare dopo un po' ci sono state delle persone che si sono lamentate e questo canale YouTube è tornato attivo. Tuttavia ci sono state anche altre notizie secondo me interessanti uno dei canali diciamo commentatori di notizie che sta avendo più successo su YouTube quello di Greg ha annunciato anche che ha attivato il suo canale Greg Radio su Libri che appunto è un'alternativa a YouTube con la sua criptovaluta ho fatto alcuni video in merito su questo progetto e tra l'altro potete cercare anche me su Libri se siete interessati a seguirmi anche in questa piattaforma ed è curiosa che appunto questo canale che non è diciamo specifico sulle criptovalute comunque ha considerato questo tipo di progetto come alternativa o backup a quello che uno fa su YouTube perché comunque uno fa dei video dedica del tempo vederseli censurati o altre cose comunque non è una cosa che fa piacere e avere un piano B di questi tempi non è una cosa poi così malsana anche perché qualche tempo fa era uscita questa notizia che parlava che in Cina ovviamente questo prima della situazione delle mascherine e quant'altro era appunto volevano attivare il fatto che prima di poter avere la connessione internet dovevi fare appunto il riconoscimento facciale e ovviamente molte persone che hanno il canale bannato cercano di aprire un altro canale da zero però se per avere accesso ad internet si arriverà mai al fatto di obbligare le gente a fare il riconoscimento facciale prima di accedere ad internet ovviamente questo tipo di bypass non funzionerebbe più e tra l'altro abilitare il riconoscimento facciale prima di collegarsi ad internet impedirebbe anche l'utilizzo di servizi quali vpn o altre cose quindi sicuramente bisogna anche vedere quello che succede in Cina perché se succede in Cina potrebbe essere che prima o poi capiterà anche da noi visto che comunque l'evoluzione tecnologica attualmente è in Cina che stanno portando avanti il massimo delle tecnologie nel bene e nel male e appunto in questo contesto se dovesse mai esserci un internet così invasivo e l'alternativa sarebbe quella di appunto fare un internet decentralizzato anche a livello infrastrutturale e questa cosa può servire in diversi contesti può servire magari in aree remote dove non ci sono i ripetitori delle compagnie telefoniche può servire in paesi dove c'è un alto tasso di censura sulla popolazione e può servire anche nel caso in cui le criptovalute dovessero essere vietate e quindi se questi tipi di connessioni verrebbero poi censurate dai provider ci sarebbe magari la necessità di connessioni alternative per un internet parallelo per fare delle cose che magari sull'internet normale non verranno più permessi e appunto uno di questi progetti è MeshTastic ovviamente non entro nei dettagli tecnici però è fatto con queste schedine che sono appunto schedine per maker che hanno molteplici utilizzi e in questo caso vi consiglio anche il video di Andreas Spies che è un canale di una persona svizzera che appunto tratta in particolare questi oggetti elettronici e racconta un po' appunto di questo progetto che include il microcontrollore ESP32, bluetooth low energy e gps quindi questo progetto può servire sia se volete fare una specie di arba fatto in casa per trovare le persone disperse e sia se volete fare dei ponti radio che coprono anche distanze di qualche chilometro dovrebbe essere attraverso questo tipo di schedine ovviamente qua non voglio essere troppo pessimista però questo tipo di infrastrutture vanno bene per degli utilizzi che non richiedono comunque una banda esagerata quindi se proprio vogliamo fare un esempio sì teoricamente una persona potrebbe andare dalla punta della calabria fino a bolzano andando solo su strade secondarie però di fatto non lo fa quasi nessuno normalmente bisogna sempre passare dalle autostrade per avere il massimo della velocità e questo tipo di paragone un po' si applica anche a queste tecnologie quindi mi raccomando non è detto che un ponte radio gestito solo tra privati sia un qualcosa che poi sarà veramente un'alternativa ad internet però se non ci fossero altre alternative sicuramente questo tipo di internet parallelo potrebbe aver senso tra l'altro c'era un progetto mi pare che forse in alcune città italiane ancora attivo che era quello appunto quello di fare come delle internet cittadine che non dipendessero dalle dai ripetitori delle compagnie telefoniche e che dire l'altro progetto più specifico nel nel contesto delle criptovalute e questo qui è loka mesh che è un sistema simile però appunto non ho approfondito più di tanto questo tipo di progetto tuttavia l'idea è sempre la stessa quella di fare dei ponti radio controllati da privati che tra loro si fidano in modo tale da creare una rete mesh parallela in modo tale da non dipendere da internet fornito da operatori telefonici adsl o quant'altro che dire speriamo che questa situazione non degeneri ma se dovesse degenerare questi sono alcuni spunti che vi consiglio di approfondire e quindi che dire come sempre lasciatemi un mi piace se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e vi interessano questi argomenti e la seconda parola che dovete associare se siete arrivati fino a questo punto è un metallo a vostro piacimento e questo è tutto ci vediamo in un altro video ciao a tutti